Si avvicina il reintegro dell'ex concessionaria strade e parchi S.p.A. dal 1 gennaio 2024 nella gestione delle autostrade laziali abruzzesi A24 ed A25. Lo prevede un emendamento della maggioranza di centrodestra inserito ieri nel decreto anticipi. Il provvedimento, come noto, è in discussione in Senato. L'emendamento è a firma dei relatori, i senatori Claudio Borghi della Lega, Vita Marianocco di Fratelli d'Italia e Dario Damiani di Forza Italia. Strada dei parchi subentrerebbe nei contratti firmati da ANAS, tornata a gestire la tratta dal 1 agosto del 2022 in seguito alla revoca in danno decisa dal governo Draghi il 7 luglio del 2022, con conseguente abrogazione del decreto poi convertito in legge. L'emendamento presentato prevede anche l'azzeramento di ogni controversia tra lo Stato e la società del gruppo industriale abruzzese Toto, al quale viene riconosciuto un indennizzo di 500 milioni di euro a compensazione dei debiti nei confronti di ANAS, in cambio della rinuncia all'ulteriore risarcimento miliardario stabilito in circa 2,3 miliardi di euro, simato in circa un miliardo di euro. Il provvedimento in discussione al Senato e da convertire in legge entro il prossimo 18 dicembre è destinato a determinare una svolta in una vicenda caratterizzata da oltre 100 controversie legali tra le parti. Con il ritorno in sella, strada dei parchi tornerebbe in bonus, visto che il 14 e 15 dicembre prossimi l'Assemblea dei Creditori approverà il piano per uscire dal concordato al 100%, al quale la ex concessionaria aveva dovuto dare ricorso dopo la revoca. Grazie a tutti.